buon pomeriggio a tutti cari amici fan ebbene parliamo di calcio femminile coppa italia femminile quarti di finale nel primo turno la florence ha superato per 2 a 1 sassuolo segnando le prime due reti di vantaggio nel primo tempo all'ottavo e al ventunesimo 2 a 1 finale dal sassuolo al novantacinquesimo gara di ritorno che si svolgerà a fine febbraio il 26 se non vado errato e comunque la coppa italia femminile andrà avanti nei quarti di finale anche domani e credo anche domenica allora concludiamo ribadendo florence abbattano turno d'andata dei quarti di finale alla coppa italia femminile sassuolo per 2 a 1 grazie ci vediamo appena finirà la partita di marco ora per commentare il match dal nostro tenista con nazionale alla prossima